Ecco su Guglia da Serle, le strade interne di Serle dove c'è Taeta Taeta, Corsa Corsa in seconda che si sta prestando a fare una salita abbastanza impregnativa è un manico nella dosazione dell'accelerazione protogidley, se ne va, siamo tutti qua in coda, abbiamo davanti un patrol, due patrol, dietro abbiamo Leonita ci siamo dovuti fermare un attimo per un problema tecnico alla turbina del signor Bazzoli sentiamo anche Lombardi che si sta lamentando della protoferozza con ammortizzatori regolabili più 2, meno 3 non è un lamento ma è una pressa merda